Mi chiamo Massimo, io avevo un'esigenza di dover vendere casa che mi pesava tenere questa casa e mi sono rivorto ad Antonio che subito mi ha dimostrato la sua professionalità e la mia esigenza era quella di liberarmi di questa casa e lui mi ha fatto una valutazione che all'inizio sinceramente pensavo fosse poerente con quello che io pensavo però poi a da lungo abbiamo discusso, abbiamo visto che abbiamo comunque deciso il prezzo e così lui è riuscito con tutti i suoi contatti, con la sua professionalità a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi Il mio punto di vista è, e lo è anche ora in questo preciso momento, di conferire un incarico a un'unica agenzia anziché proporre la vendita a più agenzie Anche perché poi Antonio, diciamo, il suo studio è collegato a 360 gradi in tutta Italia e anche oltre l'Italia e quindi il mio parere personale è che meglio conferire l'incarico a un unico agente La casa secondo me acquista più valore, questo è il mio pensiero Per la mia esperienza consiglio vivamente di rivolgersi ad Antonio sia per la vendita o per l'acquisto di una casa quando poi ognuno di noi o di voi esporrà le vostre esigenze Antonio sarà in grado di soddisfare le vostre richieste Grazie Antonio e grazie anche a Mary che mi hanno supportato in questa avventura